Grande l'entusiasmo e grande la partecipazione per il torneo Speed Games, disputatosi giovedì 21 dicembre a Siderno. La manifestazione è stata organizzata dal Centro Studi Karate, presieduta dal maestro Stella Almerito Sportiva e Cintura Nera Sesto Dan, Vincenzo Ursino, patrocinatore dell'evento, l'Associazione Italiana Cultura e Sport del CONI. Lo Speed Games, come suggerisce il nome stesso, si basa sulla velocità ed è un mezzo per il sviluppo delle capacità e dell'intelligenza motoria, ma anche un'opportunità di espressione, socializzazione e confronto. Ma vediamo i protagonisti di questa intensa gara, dove i partecipanti si sono confrontati con la massima lealtà, impegnandosi nel pieno rispetto delle regole e degli avversari. Si classificano al primo posto Antonio Favasuli, Pietro e Shannon Condelli, Giovanni Bebu, Fortunato Commisto e Agostino Tedeschi. Secondi classificati, invece, Maria Grazia Timpani, Vittorio Ciccarello, Agnese Bebu, Salvatore Pulvirenti, Nicola Sbennici e Marika Multari. Al terzo posto, Rocco Femia, Reika Ferraro, Vincenzo Fuda, Naivot Kaur e Martina Varacalli.